Già da oggi, in occasione dell'incontro in conferenza Stato-Regioni con la Ministra Stefani, la Regione Abruzzo esporrà le sue valutazioni sul processo delle autonomie differenziate delle regioni. Lo ha sottolineato il Presidente Marco Marsiglio, partecipando all'evento con l'economista Gianfranco Viesti, promosso dalla CNA Abruzzo, sul tema dell'autonomia differenziata. È possibile e quali conseguenze avrà sull'economia, in particolare il processo delle regioni italiane più avanti nella cosiddetta secessione dei ricchi? Le tre regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, puntano a trattenere risorse e gettito fiscale presso di loro e a portare istruzione, ambiente, internazionalizzazione, tutta una serie di servizi per i loro cittadini. Ma questo non farebbe altro che dare ai cittadini di quelle regioni maggiori opportunità, maggiori servizi e maggiori risorse. Ai cittadini di una regione come l'Abruzzo, che già siamo piccoli, molto piccoli, invece una diminuzione da studi che sono stati fatti di un paio di miliardi. Quindi ci sarebbe un impoverimento molto forte e molto drammatico di questi servizi essenziali. Si esposta il peso delle risorse, perché se le esposta solo dallo Stato verso le regioni che ottengono autonomia è un conto. Se c'è invece un trasferimento che squilibria i rapporti tra le regioni, è chiaro che non possiamo essere d'accordo, anche perché siamo una regione oggi debole dal punto di vista che ha bisogno di un quadro di solidarietà e di coesione. Se invece il processo è un dimagrimento della struttura dello Stato, trasferendo alle regioni funzioni che le regioni possono esercitare con più velocità, con più efficacia e più vicino ai cittadini, è un processo che ci può interessare, che ci interessa e sul quale faremo anche noi le nostre valutazioni.